Salve a tutti ragazzi, qui è il profeta della verità e oggi proverò l'allenamento braccia del programma di Flavio Raponi quindi ragazzi guardate il video e a se ora andremo a fare un pushdown con 12 ripetizioni e 2 secondi in isometria abbinato ad un superset, quindi questo è un superset con barra dritta, carb bicipiti e qui abbiamo anche 3 secondi di concentrica e 2 secondi in isometria quindi ragazzi una bastardata, cominciamo Moto, jeepi come Duan, falchi come Wu-Tang, lirico bazooka, suca sul beat come mazze di Tiger, sul green, po 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 po, buca nella tundra con gli animali rari, bruca, pecorella, nusa, fio di una lupa non conosci questa ecco che va 300 all'ora, che poi siamo a Roma, sembra suzuka i resti non so più a chi darli, perché da ste parti non riesci a svoltà se non fai le storie non corri veloce, se non vivi i rally, Parigi, Dakar per questo rispetto ti porta pagnotta e prova a fregarli, tutta onestà ma ciò non esclude il rispetto per chi sei la campa di un fricci senza stentà, mi hai masticato, sempre mandato giù con un boccone non mi ha assimilato, perché sei fame, scelai nella vita, scelai nell'amore davanti al tuo piano, ho visto ero un fiato, andare via tutti i fratelli per caso e sentivo a naso, tutte le infamità sulla mia famiglia vedo dagli occhi, ti sei montato, un barra soldato afferra le sbotte, chiamalo randaccio, don't stop quale disagio il tuo personaggio finisce al principio, ormai va indirapata, la banda è targata, la sigla è bici, fam, tak siamo sul tempo, come Lorenzo, sulla Yamaha, sull'onda noi italiani, tu, cati, voi quei grani bucati non usciamo dai locali se non siamo pagati bici, la famiglia, più polvere che in un trial un secondo zero a cento dal centro, periferia in freestyle, come motocross, baracru da bros vamo nos, entriamo e spacchiamo tutto, come i Ramones Raiden, quando passo, rigolato a spider sinfonia sul basso, come Aiden, fiamma in faccia Ghost Rider, non sei nessuno, in bocca c'ha un R1 e serrappo, coglione, tu mi stai dietro e ti mangi il fumo nitragliatrice di flow, baracru da showtime ti fa come uno shot di benzina, con l'ime mi sento i colpi, lasciamo i solchi quando passiamo, resta tutto quanto inciso quello che diciamo, mi hanno detto che fai forte fratello, ti triplo, schizzo fuori dal guardrail quando stringo in mano il micro super set, qui andiamo a fare panca piana stretta più card manubri su panca inclinata qui abbiamo 6 ripetizioni con 5 di negativa e la concentrica esplosiva e poi abbiamo 10 ripetizioni al cavo, al card abbiamo 3 secondi di concentrica più 2 di isometria qui ragazzi un minuto di riposo un'altra abbassardata perché sto sicuro che mi spaccheranno grande e comichando comichando Pensavi fosse facile sta vita Sta in mezzo a gente che da sempre per la merda C'ha la calamita Mitra, ma mica l'arma è il dio Mi lancio random nel mercato Rap Giovanni dettio Negli angoli tra sangui, sugo e martiri non pervenute Scandali troppe bevute E tappali con bici rugger Stappiamo stout, bici fan prodotto out Meff è il nuovo rapper folle, scaccia sti boy scout Nel dirti south, alla stalla il FA Cup Contro di voi la quota è bassa, uno con l'handicap Restiamo umili, troppa mentalità per sti salumi qui Chi è che se n'è andato? R, salutami, su accumuli di sangue tra i miei arti Paranoie sopra i quarti, bici fan nel muro impara a rampicarti Un nome, come un contratto d'assicurazione L'ha detto prima Pietro, non ti salvi senza amore Pensavi fosse facile sta vita Ma porta paranoia e troppo sangue tra le dita La faccia è da coglioni che non riconosco mica Anche questo esercizio da senta in botto Soprattutto dopo la panca stretta E tiene sempre stai concentri che stai isometria Flavio, un tacito, te lo devo dire Sei bastardo Andiamo ragazzi con il terzo esercizio Kickback Quindi con due secondi in isometria ad ogni ripetizione Più abbiamo un Carl Manubri in piedi Con due secondi in isometria E qui ragazzi 45 secondi del recurso Quindi cominciamo subito Tori in bocca, bara cruda, black and egg Stile obeso, non reggi il peso Già ti sei reso Topo 4 barre sei celebro leso Suono grave, troppo alto Astronave, alien Ti entro in pancia se provi a ascoltare Dalla bocca con la magma Con la magma Il tuo flow non vale un cazzo Massimo mezza dracma Rappo come fosse l'ultimo giorno di vita Per le troppe paranoie Per il sangue tra le dita Il mondo è stronzo ma io pure Voi siete caricature Trovo grigio mentre cerco del colore Trasfacce da due Pensavi fosse facile sta vita Ma porta paranoie Troppo sangue tra le dita Trasfacce da coglioni Che non riconosco mica Mi putto kamikaze Come se fosse finita Pensavi fosse facile sta vita Ma porta paranoie Troppo sangue tra le dita Trasfacce da coglioni Che non riconosco mica Mi putto kamikaze Come se fosse finita Nel locale senza cash Bevo bourbon trash Non ricordo Volo via come Gordon Flash Hardcore come uno squat Bazooka crash one shot I got Posso come Frank Lucas The Ridley Scott Strategi in the block Facciamo rap strategic Di roba ce n'è un tot La diamo via come Blue Magic Sbattò sto shaker Tanto non reggi Sei un hater Questo è mef Originale troublemaker Bad boys Non sai quanto si vede Bring the noise Faccio blow Nello show Con un floral choice Vieni con noi In the mob Stile Detroit Perfect job Senza controllo They need the dog Arrivo e non me vedi Come lo smog Rap steady Levate dai piedi Crying fog Flow shady Se non m'è visto Dirti game Ready Mi putto kamikaze Come se fosse finita Pensavi fosse facile sta vita Ma porta paranoia Troppo sangue tra le dita Tra facce da coglioni Che non riconosco mica Mi putto kamikaze Come se fosse finita Come se fosse finita Mi putto kamikaze 想asasasasasasasasasasasasasasasasat Mamma mia, ora passo più dalla porta, prima devi fare un'altra porta per entrare, comunque è un po' assurdo, guardate ragazzi, ma scoppiate che braccia, vici elettricibili distrutti proprio. Allora ragazzi, l'allenamento è terminato, il Profeta della Verità ha provato il programma di Flavio Araponi per quanto riguarda l'allenamento braccia, quindi abbiamo distrutto e demolito queste braccia, nel video ho fatto vedere soltanto alcuni esercizi che sono presenti nella scheda, ovviamente è molto più vario e molto più vasto, ho fatto soltanto, ho dato un assaggio per far vedere ciò che Flavio ha inserito all'interno, le potiche e braccia le ho proprio completamente distrutte, anche perché con queste tecniche di alta intensità, quindi avere sempre le braccia sotto tensione e andando a stimolare, a sfibrare così il muscolo, le braccia vengono veramente demolite, infatti voglio dire che alcuni esercizi e alcune metodiche che tu hai inserito nella scheda, le aggiungerò a quelle della mia scheda attuale, anche perché mi ce l'ho trovato veramente bene. Il pump è stato fenomenale, quindi ragazzi, io vi invito ad accedere ai programmi del Big Flavio Raponi per avere braccia da Terminator, io metterò il link qui in descrizione dei suoi programmi, anche perché sono pure scontati, quindi ragazzi è caso aspettare. Se volete avere un pump veramente a fine allenamento e sentirvi veramente gonfi, anche perché mi sono sentito gonfi come una merda, io ho le braccia, i bici di elettricidi li sono tenuti costantemente in tensione continua, con queste tecniche di alta intensità, concentrica, eccentrica e anche diciamo fasi di isometria, come ho fatto vedere anche nella panca stretta, veramente fare una negativa così con 5 secondi e poi una concentrica esplosiva ti distrugge veramente i tricipiti. Quindi quello che posso dirti io, quello che posso dirvi, che il programma lo approvo in pieno ed alcune metodiche le inserirò, come vi ho detto, nella mia programmazione. Quindi ragazzi, mi raccomando, detto ciò mettete un mi piace al video, commentate, commentate il video del profeta, fate sapere appunto nei prossimi video quello che voi vorreste che il profeta porti sul canale e mi raccomando, siamo pronti a dominare la scena. Dai, Yavla, ma adesso non mi tengo troppo in contrazione che già me l'ho distrutto. Te saluto.